Ingredienti di tartara di tonno con bufala Ingredienti per 4 persone 500 grammi di tonno 100 grammi di stracciatella di bufala 50 grammi di olive taggiasche tritate 50 grammi di pomodori secchi tritati 1 cucchiaio d'olio extravergine di oliva Sale e pepe cubi Per decorare, una vaschetta di germogli Sakura Preparazione di tartara di tonno con bufala Pulite e tritate il tonno Conditelo con olio, sale e pepe Prendete un coppapasta circolare alto 5 cm Mettete il tonno all'interno e sformate Quindi aggiungete la stracciatella in cima e Intorno Distribuite il trito di pomodori secchi e olive taggiasche Decorate con i germogli Perfala Cuidete Perfala 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 Perfala